stiamo davvero facendo qualcosa per i nostri figli per i nostri nipoti che cosa stiamo lasciando a loro quella ci sono due appuntamenti a monza preghiere pubbliche di riparazione per lo scandalo manifesto del brianza pride che si terrà monza bene venerdì 5 luglio dalle 18 30 alle 19 30 davanti alle sacramentine in via maddalena domenica 7 luglio dalle 11 30 alle 12 30 presso la colonna con la croce in piazza del duomo preghiere pubbliche di riparazione ce ne stanno parecchie in questo periodo in giro per l'italia sapete che ormai sono di moda i pride qui a milano c'è la gara addirittura come con la sea watch a chi offre più soldi per il gay pride chi sponsorizza meglio